Aspetta Imposta focus Pronta per la consegna Io sono arrivato a Viaggio sulle Rapide A Charite Scaldapignata Mi fa strano che non possiamo vedere dove cazzo siamo Ma io come faccio a vedere dove cazzo sei Devi fare passo destro sul mio Nome Sul mio panda C'è scritto focus Vedi che sulla mappa ti appare Adesso provo a vedere Aspetta che accetto tutte le missioni Che sono arrivato Sussurro, ispezione, imposta focus LOL Mi hai messo un cazzo di coso Rosa sopra la testa Perché sei il party leader Perché mi hai invitato tu Che culo Oddio devo scoprire adesso come raggiungi Attimax È diventato il mio Il tuo stile di coso Obiettivo Ma tu adesso sei tipo Orgrimmar Facciamo finta Prendiamo come obiettivo Io sono a Lagomennar In teoria io sono a Kalindor Adshara Adshara Cazzo ma sei super a nord Ma che cazzo ci fai lì? Per la posta come cazzo Vedete vedete guarda Indagini in pantalante Plock Qua la posso già completare E qua posso già prendere quella dopo Bellissimo La bestia del fango Adesso devo uccidere Mucchio di fango Bu Ah sei qua LOL Buongiorno signor Mabone Che cazzo ci fai ciao? Ah ma perché te c'hai l'hunter Quindi è per quello Probabilmente che ti hanno mandato In monazza di tua mamma Eeeh Vedi Bling Allora qua intanto Però aspetta La chiave d'accesso Devo recuperare Devo andare sopra Quello schifo di piattaforma Io intanto faccio secco Questi stronzi qua Orco 2 Ok tempra Questo non me ne frega niente E questo anche Non me ne frega niente Nidali se vuoi Uh mi ha sbloccato due cose Credi Eh si perché lo trovate Siamo nello stesso gruppo E quindi c'è il Nid Il Roll Ti ricordi? Si si Eeeh È un po' di tempo Che non ci giochiamo Eeeh Abbiamo perso un po' la mano Ehmobone Eeeh Io si sicuramente Mannaggia la puttana Mannaggia la puttana Zuz Ma com'è che possiamo Giocare lo stesso Anche se tu hai Un'altra espansione Perché Io non sto giocando Con i contenuti Dell'altra espansione Ah ok Beh Insomma Quindi se tu Ah ho capito Non puoi levarmi Sta merda rosa Dalla testa Puttana Ma Non ce l'ho più io Il party leader Ma che cazzo Io sto tutto Tutto il tempo Con sto cazzo Dunque Pregiato Si No Specializzazione Imposta ruolo Nessun ruolo Sbloccare Come si toglie Sta merda Icola del bersaglio Nessuno Oh Seguimi Qua Sirena Cazzo Si sicuro Oddio Mezz'ora Questa tartaruga È bestiale Mangia Comunque Eh non so Io c'ho i totem Non ho Non ho Gli animali La tartaruga C'è proprio Se ne sbatte Tartaruga Tanca Indifferentemente Chi o cosa O quando Mi ne frega niente C'è prende e mangia Che cacchio È sto tizio Che devo uccidere Guarda qua Guarda quella cazzo Di tartaruga Porca puttana Una iena Si Anche se le uccido Va bene Io ho completato La missione Si Bombasta Vatene fuori Dal cazzo Non C'è la magia Anti rompipalle La magia Anti rompicoglioni Si Cosa le hai pensato Una bomba Ah no No sono i totem Che sono a forma Di barile cinese Del cazzo Pensa al mio La mia tartaruga Non ci preoccupare Tu c'hai i peti C'hai i totem Ma eccolo qua Bisogna accedere alla console E Completa Accetta Qua Basta Rompere le palle Madonna Due Basta No ancora un'altra No ancora una Questa dietro Tutta Che figata E' molto più divertente Far missioni in due Eh direi proprio di si Direi proprio di si E apro Prendi la chiave Della console Da qualcuno Qua vicino Andiamo a Andiamo a Stronzo qua dentro Eccolo lì No Il saluto sfigato Che diceva Intanto però Non ho sfigato che ha commesso l'ultimo errore della sua vita Pessimo Porca puttana Vediamo cosa dà questo Intelletto È mio 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 questo Sì sì Hai vinto Che figa Ho vendato L'alchivamento Per quello che prima mi sono emozionato Ecco Non so cosa ho preso Ah la chiave anche io Che bello che non si buggano Solo perché le facciamo in due Madonna Troppa soddisfazione E adesso bisogna di nuovo ritornare La della console dei comandi Sì sì Guarda qua Max Dimmi dimmi Guarda Cammini all'indietro E boom Boom Come si fa sta roba Eh boom Ah la magia tua da Panda Noll Zip Completa Ancora Sare di livello Io no cazzo Eh ma io sono indietro Ris patata No io sono di 19 E io ora sono a 19 Ah puttana Eva Bisogna ritornare indietro credo Oh cazzo Che succede Guarda che cicciona che sta panda Perché cazzo ti sei fatto la panda femmina Per farti dare gli oggetti in gioco Se no merda Ma va Perché se faccio la femmina Mi faccio dare gli oggetti Che ne so io Così così Ci sono tipo gli affamati di figa Sì mi sto tipo a grande il mondo Perché non me ne può fregare de meno Io devo arrivare in fretta Perché nooo Ma dai No andiamo 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 avanti dai Dove fare in quanti cazzo Chi è la mia tartaruga Pottevi fatti aggrare ancora da qualcuno Sì No no Sono morto No 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 Non mi morire a caso Corri Dove cazzo è la mia tartaruga Talute bassa No dove sei Fermati ma ba Sì Ti sono riuscito a curare Madonna questo è una rotu cazzo Più Intanto ti riempio tutto Ah sì Sei full beat Ah Basta basta Mi voglio curare a me adesso Cazzo E muore Oh ma dove è finito il mio pet È morto È morto il pet E quindi Ah ma te lo resti cazzo Via via Ok andiamo Stronzo Dopo che sono passato a livello 20 Per oggi basta registrare Livelliamo come stronzi Ma io non registro più niente Perché basta Basta Oh adesso sembro più un essere umano Carpadola che brutto Mamma mia Dove è un tizio che mi ripara la roba Eccolo qua Da qua possiamo vendere un po' di schifo Hai visto che tutto quanto quello che è inutile ti viene già col pallino giallo Tipo Dole Davvero non me ne ero accorto Sì Quando tipo tu vendi tutto quello che è inutile te lo dà con un pallino giallo Così tu puoi già O quello che puoi indossare O che ti dà Quello che non puoi indossare Oppure quello che ti dà Tutte quante statistiche negative Tipo Rispetto a quello che hai già Non sono accorto Adesso te ne sei accorto Bellissimo Ma solito Cosa devo fare Sei pronto a fare il negro in orbita? Ma cosa cazzo? Scusa devo provarla anch'io Lancia del razzo in tre Due Incredibile Non credevo che sia Uno Dove al carico sta per lì Cosa Polbine di Pegasus Pegasus No Che bagno Ti ho già detto che la prima volta che muro Ma non preoccuparti Che figata Sta roba tipo se non paghi non ce l'hai cazzo Strabello Quei sono le ore Stavo quasi per lasciare lo sterzo Aspetta Che figata Ma cosa sono sti posti? È qualcosa di indescrivibile Qua ci sono già stato agli inizi tipo Che dovevo proteggere una carovana Ma dove mi sta portando Orgrimmar? Ah anch'io ci sono andato L'ho fatto anch'io la caravana Che dove c'erano tutti quei tizi che ti saltavano Che gli devi sparare tipo Il mio sogno è quello di diventare un genio come sputa valvole Dovresti vedere il suo progetto del triciclo a due ruote Si chiama bicicletta Oddio si è spaccato Max No non è vero Oddio 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 Non è vero Questo non siamo parte dei piani di volo Il motore è in stallo No 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 che cazzo vuol dire? Oddio 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 della luce verso qualche posto di merda e anch'io me lo ricordo... forse se provo questo pulsante merda... no niente da fare oh porca puttana si è rotto che cazzo devo tentare un atterraggio di emergenze ma siamo in... nooo ma che cazzo ti ho visto, ti ho visto, ti ho visto bellissimo ecco ce ne sono un paio cristo santo ah vabbè ma perchè tanto io c'ho il bastone strappa 6 artigli, luogo tenente dell'alpria, mangiati la merda, solite cose bene dai almeno siamo stati in un altro posto e ci siamo fatti un viaggetto è stato bellissimo aspetta 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 che questo aspetta 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 che questo lo devo registrare guarda quanto è sneaky sneaky sto figlio di puttana invisibile Dio santo ti stupro la mamma guarda che cazzo di roba che bastardo ok allora hola 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 io sono Max de Berrofronzo abbiamo passato un livello enorme perchè dalle tigri dai denti a sciabola siamo passati tipo a pestare le fanghiglie marcescenti quindi rendetevi un po' conto voi dell'aumentare di livello d'accordo abbiamo passato un brutto quarto d'ora per il semplice fatto che c'è una cazzo di missione che si chiama la vendetta di Gorath secondo la quale in teoria tu devi tipo versare un cazzo qui intanto uccide uno scoiatolo perchè mi sta sulle palle ecco nella quale tu devi praticamente massacrare un tizio e dopodichè versargli il proprio sangue sul proprio cadavere e in teoria sta persona risorgi ora se questa cosa funzionasse così si e sai non esisterebbe però va bene adesso noi dobbiamo praticamente andare in gi... dunque innanzitutto le novità sono due siamo arrivati al livello 20 quindi abbiamo preso una tartaruga dato che io ho comprato la Collector's Edition ho preso questa bestia inumana mi ha preso sto schifo di merda è fermato c'è una cazzo di tartaruga mi frega benissimo per che appunto la tese pure ha creato la grigna fina qua comunque al di là delle strozzate vola colomba bianca ok allora ah ho preso un artiglio di grigna fina che cazzo che è? questo oggetto via una missione quanto cazzo è alto il nostro inventario siamo pieni di merda tutto per la consegna però va benissimo comunque praticamente adesso dobbiamo andare in giro per sto cazzo di posto a uccidere gli elfi invisibili che però non si trovano eh dimmi eh eh si mentre io invece ho detto che gioco a Airstone ho questa cosa qua vedete rompere il culo a Jolly mi ha fatto fare il ha capito? mentre lui ha la tartaruga del cazzo scusate la poca professionalità però sta cosa mi fa troppo ridere e dice mamma gliele hai guarda la mia nobile creatura mentre tu scusate non ce la faccio oh signore ah si allora dove cazzo è un elfo invisibile durido tu guardala guardala la staffetta puttana maledetta fa anche rima sono stordito eh te l'ho lanciata contro perché non mi andava bene di leggere né di scrivere ok ok picchiamo anche questo 3 di 9 3 di 9 sono poche eh dai cazzo ma che sono cazzo come si dice allora innanzitutto però aspetta che io devo andare un attimino alla base qua vicino per il semplice fatto che devo svuotarmi un po' l'inventario perché sì allora il cazzo che rimango solo qua ecco adesso vi faccio vedere praticamente la cosa che è sbagliata praticamente di questo posto al di là delle fanghiglie marciscenti che chi se ne frega il fatto è che dall'ultima volta che siamo arrivati praticamente in sto cazzo di posto è cambiato qualcosa e ci sono dei cazzo degli antichi trend degli elfi d'accordo che hanno una quantità di punti vita ininominabile più le tiratrici è brutto che cazzo che ogni volta che passi qua vicino te li agri e cominciano tipo a sbudellarti per vedere se dentro c'è una sorpresa d'accordo e qui porca puttana ogni volta cazzo che devo vendere qualche cosa devo entrare qua dentro tipo seminare il mio femore in giro per il posto sotto forma di polvere e intanto adesso aspetta facciamo la pietra tombale qua dentro dai rendi questo luogo la mia dimora perché se tanto mi da tanto ne avremo bisogno e adesso vendo tutta quanta questa merda che c'è dentro il mio inventario che come vedete è quasi tutto quanto con il puntino giallo maledizione la zampa di ragno e la zampa di ragno la piuma leggera questo chi se ne frega questo lo vendiamo il costato di lupo il piccolo uovo e il bastone da cammino lucidato lo posso vendere ma direi proprio di si comunque in pratica in teoria questa missione è pronta per la consegna però chi la devo consegnare in culo ai lupi l'artiglio di grigna fina quindi direi che è mamma mia ecco boh comunque sia praticamente mentre qua le catapulte sparacchiano roba agli antichi noi adesso dobbiamo fare avanti indietro d'accordo con i nostri rispettivi destrieri io con il coso lì con la tartaruga passando ogni volta in mezzo praticamente tutta sta merda di gente sperando di non essere a grati da questa cosa qua e basta volevo solamente iniziare questa puntata in gloria adesso potete già cominciare a annoiarvi cambiate canale magari prima ci lasciate un mi piace così vaffanculo però così insomma vi richiamo quando c'è qualcosa di interessante da attaccare a questi let's play perché nel senso nel momento in cui si guardano le cavalcature è un discorso ma se devo sbudellare le fanghiglie marcescenti non è proprio il massimo della vita oh guarda c'è la troia dietro dov'è? dobbiamo ucciderla ma cazzo ma sono invisibili come le fai a prendere? cioè neanche volendo le ho vestito con la mia tartaruga bene sbudellata anche questa 4 su 9 49 che bello eh che strana numero corvo del terrore aspetta 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 trovata cazzo maledetta vabbè insomma dovremmo andare avanti così per una mezz'ora vabbè vuoi aggiungere qualcosa a questa a questa tristezza che si commenta da sola? ma ti prego la gialla tartaruga mi ha fatto riuscire abbastanza mi aspettavo di vedere un cavallalato anch'io coi neon una cosa? coi neon stavo calcolando prima che più che un panda a sciabano mi sento come Dominic Toretto perché volevo un attimino farvi notare praticamente i neon di questo cazzo di cosa che quando c'è sta cosa è tamarra da far cagare signori ma io per giocare a carte devo fare così va bene ma basta sti cosi beh vengo attaccato da dei grifo cervi blu sono a livello 22 fuori dalle palle a tra poco signori nessun prezzo di vendita boh ok allora per la prossima missione adesso andremo per i cazzi nostri signor Babone io la ringrazio per la collaborazione preziosa è sempre gradita io penso che per questo che figata ragazzi io penso che non uscivo penso che adesso io mi metterò con il signor Babone tipo a livellare come degli stronzi ora che ho trovato un buon compagnuccio di leveling vi ringrazio tutti quanti per avermi seguito fin qua vi segnalo che naturalmente anche il signor Babone ha un canale YouTube per chi non lo sapesse è segnalato qui in descrizione se volete dateci un'occhiata e iscrivetevi esattamente come a questo video se vi va lasciato un mi piace altrimenti lasciate dei commenti non c'è una scelta dovete per forza fare uno di questi due considerato che nell'altro è rimasto da dire arrivederci signor Babone arrivederci e da Max dei Barro Stronzo adios a todos adios